Il legame da Massimo Ferrello, Unione Calcio Sampdoria, le tante attese firme dell'accordo tombale per mettere fine a tutte le pendenze delle questioni anche legali, ancora aperte sul passaggio di proprietà. Scorso anno sono arrivate queste mattine al Tribunale del Milano. Vorrei dire a questo signore che è stato che lui si sente un bravo giornalista e dato che due anni fa io ci ho perso una causa perché lui mi chiamò e mi disse ho venduto perché c'avevo le teste di maiale dentro casa che mi mandavano i proiettili ho detto ho venduto e loro si sono basati su questa cosa qua. Però tu mi insegni Paolo che se quando vendi devi essere pagato. Sì sì, ma scusa voglio dire una cosa, ma oggi il 28 non era gioco affistato dal giudice in Tribunale a Milano. Infatti hanno fatto un accordo, una pappetta tra di loro, non so che è successo e a me però non mi hanno firmato il contratto e mi citano ancora io non ho venduto niente, l'era di Ferrero non è finita, l'era di Ferrero caro Micheli finirà quando il signor Manfredi, Presidente della Sampdoria mi paga pagare, lo dico, sono stato sempre bravo, stiamo facendo l'accordo, stiamo facendo l'accordo stiamo facendo l'accordo, qui non ci sono accordi, qui ci sono gli accordi, si fanno davanti a quando un giudice dice firmate e dobbiamo firmare tutti quanti, capito? Ma tu non eri presente, non c'era il professor San Marco? No c'era il suo sostituto, no c'era il suo sostituto, c'era il suo sostituto che è un avvocato perché Marco non c'era e io non sono andato perché ho firmato praticamente una settimana fa, ho lavorato per far firmare tutti, però oggi ci dicono che non firmano più perché ci vogliono, capito? Allora io mi sono stancato, da adesso un poi, quindi ci sarà un contenzioso mai svegliare Paolo, la vipera che dorme il can che dorme a me mi chiamano la viperetta ma sono diventato una mammoletta perché ho rispetto per tutta sta gente ho rispetto per la Sampdoria, ho rispetto per tutti abbiamo fatto, ma che hanno fatto? l'altra volta, fino a che dicono siamo a vero, siamo a vero, Ferrero non vuole fra tutti i giorni mi scassano il cazzo di me io voglio il bene della Sampdoria e se te compri una bicicletta la devi pagare giusto? se no che hai comprato questo certo